Cosa è il mucchio? Ferraini vuole ballare il Mastallino, non c'è arriva nessuno, però non è finita Giglio. Stop, cross, canneso, rovesciata in reddito! La rovesciata di Ferraini ha sentito il Zivorto! Nella terza categoria il Girifalco ottiene una grossissima vittoria nei tempi supplementari andando a sbancare Staletti vincendo 1-0 con un gol di Ferraina e qualifica il descendo quindi a questo punto promosso in seconda categoria. L'altra promossa è il Tiriolo che batte il Baida e quindi dopo aver condotto un buon campionato anche la squadra del Tiriolo approda la seconda categoria. Bella vincente la partita tra Staletti e Girifalco, le due squadre se le sono date di santa ragione sportivamente come si dice in questo caso, si è arrivate anche nei tempi supplementari e nei tempi supplementari. Ha avuto la meglio il Girifalco, da ricordare che lo Staletti era meglio messo in classifica e bastava il pareggio alla squadra stalettese per poter accedere alla seconda categoria. Vedremo se poi ci saranno eventuali ripascaggi. Comunque intanto tanti auguri sia al Girifalco che al Tiriolo. Noi siamo il Girifalco Noi siamo il Girifalco Noi siamo il Girifalco Noi siamo il Girifalco Grazie a tutti! Grazie a tutti!